Bella ragazzi, dal vostro PNP, il baffo più bello di tutta YouTube Italia oggi siamo sulla demo di FIFA 16 per provare appunto, come ho detto nel vlog quelle puttane delle squadre femminili ovviamente ci prendiamo la Germania contro gli Stati Uniti vi informo già le impostazioni di gioco che sono cambiate ovvero, appunto, io ho messo la modalità esperta giorno, giorno, velocità di gioco normale una cosa che non ho visto in FIFA 15 almeno io, poi non so voi, fatemelo sapere è modificare la tensione della rete della porta ovviamente cioè predefinita, normale, allentata e tesa poi la forma della rete predefinita, rettangolare o triangolare noi mettiamo il triangolo trama della rete, esagonale, predefinita, quadri un'altra cosa, le regole infortuni sì, fuorigioco sì, cartellini sì e anche i falli di mano ovviamente, se ci sono delle ragazze i falli di mano, soprattutto i falli ne abuseranno tanto quindi, ragazzi iniziamo questa diciamo, proviamo questa demo di FIFA 16 vediamo cosa sanno fare queste femminucce train, trainer no, non lo voglio perché ci so giocare vediamo un po' allora beh, minchia, modalità esperto se si muove qualcuna ok minchia, ma hanno già furtato così, di cattiveria ma vaffanculo puttana è quello di Far Cry 4 come cazzo chiama non va c'è anche lo spray cioè c'è anche lo spray ma stiamo scherzando no, vabbè raga questa cosa è proprio epic molto epic l'arbitro femmina pezzo di merda ho fatto la finta io non le so fare queste cose guardate guardate cioè come rimane qui il il segno delle punizioni cioè la schiuma per le punizioni ok ok sì quella si sveglia porca puttana escile cioè io voglio il almeno l'esultanza che alzano la maglietta e la fanno vedere cioè come la ratatatatowski come si canta flash di costi merda sto già bestemmiando sto già iniziando a cercare i santi eh dai cazzo pressa così brutta puttana ecco la sasic che ciabatta era che ciabatta era oh che rete che rete che ha fatto sasic come si chiama salic cioè che cazzo di rete era comunque primo gol nella demo modalità esperto perché se metto leggenda mi apre il culo come un'albicocca guardala guardala ma dai marazotan non era fallo non era fallo dai dai bourtier bravissima pazzozza è cambiata sì cioè il portiere esce da solo quanto mi fa incazzare sembra fifa 2001 e finisce così a meno con questa nuova modalità con il campionato e sì il campionato perché sto sbagliando questi cazzo di termini oggi comunque questo fifa non mi dispiace almeno vedendo prima impressione questo mondiale con le donne diciamo che anche una demo quindi fifa 16 uscirà fra neanche dieci giorni fra un due uno due settimane ovviamente speriamo che sia più più figo fatemi sapere le vostre impressioni su questo fifa lasciate un bel like un commento noi ci vediamo alla prossima la vostra penapina è tutto ciao